Musica Quattronissimo on the road prosegue ragazzi siamo sul bus di Priscilla in compagnia di Bernadette Manuel Frattini No no, Manuel Frattini è rimasto su in camerino Si, si ha mandato me Si è vestita a lutto giustamente perché il tromba Il tromba è morto, non so se sapete perché si chiama tromba ve lo dirò soltanto se verrete a teatro e lo scoprirete Si, si perché ci sono dei taralli al finocchietto io dico so Cioè della serie vabbè No ragazzi io sono emozionatissimo perché essere qui sopra al bus di Priscilla con questa Bernadette favolosa, queste calze a rete devo dire favolose Guarda la scarpa, ti piace la scarpa? E il dettaglio che fa la differenza I punti luce abbiamo, guarda Che fanno pandan Tra poco vai in scena, che emozione c'è da Beh, guarda è sempre Quella non si può spiegare, davvero non si può spiegare Però l'importante è che quel friccicchio ci sia sempre, capito? E quello c'è sempre, grazie a Dio Ma infatti adesso Tic e Adam staranno in camerino e noi invece partiremo con Bernadette Ma magari Ma chi guida? No, guidi tu ovviamente Guido io? Però non uccidere troppi insomma anche teletub Ok allora andiamo Andiamo, partiamo, ciao, ciao No guarda, guarda, guarda Partiamo, partiamo Via Ah, a chi ha Ah, a chi ha Ah, a chi ha